Sulle nostre montagne la crisi climatica sta diventando crisi economica. Gli impianti sono aperti a singhiozzo, non riescono a sostenere la stagione neanche con il supporto dell'innevamento artificiale reso impossibile dalle temperature sempre più basse e il grido d'allarme lanciato da Lega Ambiente. Il turismo della neve nelle montagne senza neve, titolo particolarmente appropriato scelto per la conferenza stampa, convocata appunto da Lega Ambiente, la Presidente regionale Silvia Tauro. Facciamo un bilancio Presidente. Il bilancio ci dice che sulle nostre montagne la crisi climatica sta diventando crisi economica. Accanto agli impianti dismessi e chiusi troviamo sempre più impianti che sono aperti a singhiozzo, non riuscendo a sostenere la stagione neanche con il supporto dell'innevamento artificiale in una regione in cui quasi 70.000 metri quadri, comunque di territorio, sono pur coperti dai bacini di innevamento. Quali sono le priorità? Le priorità in questo momento sono di due tipi. Da un lato la politica regionale deve continuare con il percorso che era stato intrapreso già a partire dal disciplinare proprio del turismo attivo e sostenibile. Dall'altra parte deve essere più incisiva l'azione dei parchi sui nostri territori, che devono sostenere progetti votati realmente alla sostenibilità, non come successo sul comprensorio di Ovindoli-Campo Felice. La nostra attività comunque spinge sempre in questa direzione, immagino? La nostra attività spinge sulla sostenibilità nel momento in cui, in questo momento, proprio la conservazione ambientale è la chiave per risolvere, in questo momento di riconversione, che rischia appunto di essere una crisi non solo ambientale ma soprattutto economica e sociale.